Il rialzo dei prezzi è continuo e la situazione ormai fuori controllo. Sta mettendo in ginocchio migliaia di imprese in tutta Italia. Anche nella provincia di Pesaro e Urbino gli imprenditori sono alle prese con le bollette, addirittura più che triplicate. È il caso di Giacomo Dini, uno dei titolari della BMG con sede a Pesaro. L'azienda specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione, ad oggi conta 16 dipendenti. Giacomo, quanto pagava prima e di quant'è l'ultima bolletta? Dunque, allora ce l'ho qui a portata di mano, presa apposta, quindi da 3.740 siamo passati a 15.368. È più o meno stesso numero di kilowatt, un aumento calcolato del 350%. Se lo aspettava? No, no perché faccio parte di un consorzio che fino a due anni fa andava tutto bene, si risparmiava anche qualche cosa e adesso praticamente anche il consorzio non ha funzionato più. Che cosa pensa di fare? Ci sono delle soluzioni da mettere in campo? Soluzioni non ci sono per l'immediato, si stava pensando di fare il fotovoltaico eventualmente per prodursi autonomamente l'energia. Avrà un costo, ma stiamo valutando questa posizione qua adesso. Sono necessari comunque degli incentivi da parte del governo? Certo, certo. Come hanno fatto il 110% per le famiglie, per le case, secondo me sarebbe una cosa da fare incentivare gli impianti fotovoltaici in modo che anche la parte non consumata dalla ditta stessa che possa essere venduta e avere un ricavo. I dipendenti, ha proseguito l'imprenditore, non rischiano il posto di lavoro. L'azienda però ha fatto di recente degli investimenti importanti sui cappannuni e sui macchinari e ora, ha detto Dini, dovremmo rimboccarci le maniche. Che cosa si è domandato in queste settimane? Di chi è la colpa? Ma la colpa, adesso tutti parlano della guerra, però era già incominciato tutto prima della guerra, quindi secondo me buttarlo tutto sulla guerra di Putin non è proprio giusta, perché secondo me c'erano già delle speculazioni partite già da prima. Noi avremmo bisogno di certezze, perché l'instabilità così è la cosa più brutta che ci sia, perché noi ci fermano tutto, perché se non sai un domani o perlomeno se c'è una piccola percentuale di un aumento di qualche cosa è un conto, ma avere degli aumenti del 350% sono sempre stati impensabili fino a quando non sono successi.